Benvenuti cari follower. Prima di entrare nei dettagli, non dimenticare di supportarci premendo il pulsante. Mi piace per questo video per motivarci a continuare e offrirti il meglio. Si prevede quindi tempo caldo e stabile in tutte le regioni d'Italia a partire da domani fino all'8 febbraio 2024. Ma attenzione, a partire dal 9 febbraio 2024 si verificherà un forte cambiamento delle condizioni meteorologiche in tutte le regioni d'Italia a causa dell'arrivo di un fortissimo temporale che porterà aria molto fredda e che registrerà un notevole abbassamento delle temperature in tutte le regioni d'Italia da nord a sud con piocce abbonanti al nord e al centro, a ritmo cardiaco, al sud e nevicate in alta montagna. Questo temporale molto forte continuerà a colpire l'Italia almeno fino a metà mese, con abbondanti piogge e abbondanti nevicate con forte ondata di freddo e gelate. Inoltre, le previsioni a lungo termine indicano la continuazione del freddo e dell'inverno, per eccellenza in tutte le regioni d'Italia fino alla fine, almeno il 22 febbraio, e ciò è dovuto al distacco di un'enorme massa di ghiaccio dal polo nord, che si sposterà verso le medie latitudini della terra e si accentrerà sull'Europa, continuando a interessare tutti i paesi europei, compresa l'Italia, per diversi giorni, che permetteranno la caduta di grandi quantità di pioggia, che potrà variare dai 50 ai 200 mm, come il tasso di accumulo e nevicate abbondanti, con uno spessore compreso tra 10 e 100 cm. Stiamo seguendo tutti i nuovi aggiornamenti e ulteriori dettagli riguardanti questa potente tempesta e cercheremo di fornirteli nel prossimo video.